Mister, intanto benvenuto a Foggia. La partenza è stata all'insegna dell'attenzione perché i tifosi chiedono velocità nella costruzione della squadra, chiedono un progetto in linea con quelle che sono le ambizioni di una piazza che poche settimane fa sognava la Serie B. Intanto che effetto le ha fatto? Sicuramente non ce l'aspettavamo, questo è chiaro, però capisco le aspettative della gente, dei tifosi e le condivido anche, però devo dire che la stagione, al di là che possa partire con qualche giorno di ritardo, credo che sia ben avviata sotto certi aspetti. Stiamo lavorando già da qualche giorno, anzi più di qualche giorno sotto l'aspetto lavorativo come giocatori, come ricerca di caratteristiche, quindi su questo non partiamo di certo da oggi. Oggi è un punto a zero con la presentazione, ma sicuramente il lavoro è già partito da qualche giorno e speriamo di trovare quelle che sono le caratteristiche giuste per quelle che sono l'aspetto tattico, l'aspetto tecnico da mettere in campo. Si cambia, si passa al 4-3-3 che è un po' il marchio di fabbrica di Mr. Cudini, che tipo di 4-3-3 è quello di Cudini? Più vicino a quello zemaniano, più magari equilibrato, il primo delle rossi per intenderci? Sicuramente non così marcato come possa essere quello del Mr. Zema, sicuramente un po' più equilibrato, con una fase non possesso un po' più equilibrata. Questo sì, senza nulla togliere a quelle che sono il reparto offensivo o l'aspetto offensivo. Questo sì, ci piace stare nella metà campo offensiva, ci piace fare gioco, ci piace ricostruire e questo dobbiamo essere bravi a trasmetterlo in breve tempo. Per quanto riguarda il modo di giocare, 4-3 sicuramente è un modulo base, un modulo di partenza, però il modo di interpretarlo è quello che poi ci farà la differenza. Quindi dire che andremo sempre dentro con i tagli come fa il Mr. Zema sicuramente non lo sarà, perché ci piace venire a giocare dentro, ci piace giocare fuori, ci piace avere le balle addosso e saltare l'uomo. Quindi queste possono essere alcune di quelle caratteristiche per cui andiamo alla ricerca. Attorno a questo sistema di gioco andrà costruito un organico che al momento conta una quindicina di calciatori, ma potrebbero ridursi per quelle che saranno poi le successive scelte di mercato. Che forse dobbiamo immaginarci e cosa vi siete detti quando avete trovato l'intesa? Qual è l'obiettivo della squadra che andrà poi a prendere parte al prossimo campionato, che si spera non sia quello di Serie C però? Potrebbe essere quello di Serie C? Questo ci lo auguriamo tutti, anche se le possibilità sono minime forse di fare il salto di categoria. Però le ambizioni sono quelle di fare un campionato buono, un buon campionato, di stare da metà classifica in avanti. Questo è chiaro. Dire che vinceremo il campionato sarebbe utopico, sarebbe irrazionale e anche rispettoso. Quindi non lo è, però sicuramente vogliamo fare un campionato che ci può dare soddisfazione, ci può dare quell'importanza anche a livello di singoli, di giocatori, che possono mettere in evidenza quelle che sono le proprie caratteristiche. E quindi di conseguenza potrà venire fuori un campionato buono. Ci siamo detti questo, non ci siamo detti altro, non c'era bisogno di dire altro. Le aspettative, so che della piazza sono alte, però dal niente a volte si può anche trarre degli aspetti positivi. Quindi ripartire con squadra giovane e con giocatori importanti che abbiamo in rosa, perché non vogliai nasconderli, ma abbiamo giocatori over importanti. Poi dopo io e la società ci auguriamo che tutti rimangano in rosa, questo è chiaro, perché hanno caratteristiche importanti. Però il mercato è aperto e sappiamo tutti come può andare. Però i vari nomi che sono stati fatti prima in conferenza, se è sottoscritto si ritrova il ritiro per tutto l'anno, o perlomeno in rosa per tutto l'anno, è molto contento, anzi, perché hanno caratteristiche importanti. Vi siete dati dei tempi, c'è anche la Coppa alle porte, questa partecipazione inaspettata per certi versi, si gioca già il 5 di agosto. Che tempi vi siete dati per quantomeno avvicinare la rosa a quella che poi sarà definitiva? Ma è difficile dirlo, è normale, può succedere in una settimana riuscire a completare gran parte dell'organico, come magari possono volerci due settimane. Il mercato è sempre aperto, quindi vedo squadre anche in altre situazioni che completano l'organico gli ultimi giorni di mercato. Sicuramente dobbiamo avere un numero congolo per poter fare un ritiro come si deve, questo sì, ma come ha detto anche il direttore, ci auguriamo che in questi giorni chiudiamo qualche entrata per poi iniziare questo ritiro, che è la cosa più importante in questo momento, di ridare l'infa a un ambiente, ridare l'infa a una stagione dove poi quando si parte a volte da niente può venire fuori qualcosa di importante, noi ci auguriamo questo. Mister, le faccio due nomi, pensando a quello che sarà il suo tridente. Per Alta e Beretta possono essere due elementi che in questa categoria potrebbero spostare gli equilibri? Questo è chiaro, non sta a me dirlo, per Alta e Beretta sono due giochi importanti per la categoria. hanno dimostrato nella loro carriera Beretta un po' di più, essendo un po' più anziano su certi aspetti, però anche per Alta stesso con le proprie caratteristiche hanno scorsa fatto vedere che è un giocatore importante. E qui a Foggia mi auguro che riescano a fare quel salto di qualità che tutti ci auguriamo e dare quell'apporto che tutti ci auguriamo in campo la domenica. Ritiro precampionato, quando si parte, dove si va? Si parte il 31, la località e la solietà la stiamo valutando in questi giorni, domani dovremmo riuscire a decidere, abbiamo un paio di situazioni, valutiamo bene il campo di gioco che è la cosa più importante e poi dopo questo possiamo decidere la località. La Coppa Italia stravolge tutto, non si va più ad Assisi? La Coppa Italia stravolge perché è arrivata in questo momento come notizia, pensavamo tutti di poter fare la Coppa del 20, invece però devo dire che potrebbe essere uno stimolo. Sicuramente capisco l'aspetto tifosi che non vuol fare brutta figura, ma nessuno vuole fare brutta figura. Di certo non possiamo dire che potrà essere un confronto alla pari, al di là della categoria, però sicuramente andremo in campo per fare la nostra partita, questo è chiaro. Buon lavoro in bocca al lupo. Grazie, Crepi. Grazie. Grazie.